Da giovedì a Ragusa sarà possibile richiedere i buoni alimentari da spendere in supermercati e punti di vendita di generi alimentari accreditati, è quanto rende noto il sindaco Peppe Cassì. Oltre ai buoni spesa per alimenti, saranno attribuiti ai medesimi beneficiari anche i buoni commerciali da utilizzare in negozi accreditati di vario genere, come ad esempio abbigliamento e accessori, calzature, giocattoli o articoli da regalo. Nell'home page del sito istituzionale dell'ente sarà attivata una specifica sezione con tutte le istruzioni necessarie per presentare l'istanza online. Una volta completata correttamente la domanda, il sistema consentirà di inviarla digitalmente ai servizi sociali per la valutazione e l'approvazione. Al termine delle necessarie verifiche, i beneficiari riceveranno sul proprio telefono due distinti sms in due momenti diversi. Un primo sms relativo ai buoni alimentari conterrà il codice a barre da esibire in suoi mercati e punti vendita di generi alimentari accreditati. Un secondo sms relativo ai buoni commerciali conterrà un altro codice a barre da esibire nei diversi negozi e esercizi accreditati. Nostro obiettivo, dichiara il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, è quello di fornire sostentamento alimentare utilizzando le risorse stanziate dal governo, pari a circa 530.000 euro e allo stesso tempo di dare una piccola ma significativa possibilità di spesa in negozi ed esercizi di ristorazione della nostra città, utilizzando anche i risparmi delle luminari natalizie. I buoni saranno liquidati con priorità in favore di chi non ha altra fonte di sostentamento o comunque non raggiunge una soglia di sopravvivenza, per poi procedere con chi percepisce comunque un reddito valutato come non sufficiente. i supermercati e i punti vendita di genere alimentari possono accreditarsi presentando domande online.